difendete le bombe muro rinforzato la squadra d'attacco ha trovato una bomba la squadra d'attacco il il Grazie a tutti. 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 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Abbiamo il disinnescatore. Dovete trovare e disinnescare una bomba. Nemico individuato, piano terra. Nuovo caricatore. Un nuovo caricatore! Dovete recuperare il disinnescatore. Ultimo uomo per la squadra alleata. Ultimo uomo per la squadra alleata. Grazie a tutti. Proteggete le bombe. Fortifico il muro! Attenzione, la squadra d'attacco ha trovato una bomba. in gioco. Dispositivo ok. Occhio, la posizione di una bomba è comprometta. 10 secondi. 10 secondi. 5 secondi. bomba localizzata. Bomba localizzata. 5 secondi. 10 secondi. 5 secondi. 5 secondi. Ricarico! visuale sul bersaglio nitro piazzata cambio caricatore il un operatore alleato rimasto un operatore alleato rimasto Grazie a tutti. 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 Resta solo un operatore d'attacco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.